Il Papa Emerito, Benedetto XVI, mi ha incaricato di leggere la sua lettera personale, che lo faccio volentieri. Cari sorelle e cari fratelli, a seguito della presentazione del rapporto sugli abusi nell'Arciediocesi Monaco e Frisinga il 20 gennaio 2022, mi preme rivolgere a tutti voi una parola personale. Infatti, anche se ho potuto essere Arcivescovo di Monaco e Frisinga per poco meno di cinque anni, nell'intimo continua comunque a persistere la profonda appartenenza all'Arciediocesi di Monaco come mia patria. Vorrei inzitutto esprimere una parola di cordiale ringraziamento. In questi giorni di esame di coscienza e di riflessione ho potuto sperimentare così tanto incoraggiamento, così tanta amicizia e così tanti segni di fiducia quanto non avrei immaginato. Vorrei ringraziare in particolare il piccolo gruppo di amici che, con abnegazione, per me ha redatto la mia memoria di 82 pagine per lo studio legale di Monaco, che da solo non avrei potuto scrivere. Alle risposte alle domande postemi dallo studio legale si aggiungeva la lettura e l'analisi di quasi 8.000 pagine di atti in forma digitale. Questi collaboratori mi hanno poi anche aiutato a studiare ed ad analizzare la perizia di quasi 2.000 pagine. Nel lavoro gigantesco di quei giorni, l'elaborazione della presa di posizione, è avvenuta una svista riguardo alla mia partecipazione alla riunione dell'Odenariato il 15 gennaio 1980. Questo errore, che purtroppo si è verificato, non è stato intenzionalmente voluto e spero sia scusato. Ho già risposto che da parte dell'Arcivesco Genswein lo si comunicasse nella dichiarazione alla stampa del 24 gennaio 2022. Esso nulla toglie alla cura e alla dedizione che per quegli amici sono state e sono un ovvio imperativo assoluto. Mi ha profondamente colpito che la svista sia stata utilizzata per dubitare della mia vericità e addirittura per presentarmi come bugiardo. Tanto più mi hanno commosso le svariate espressioni di fiducia, le cordiali testimonianze e le commoventi lettere di incoraggiamento che mi sono giunte da tante persone. Sono particolarmente grato per la fiducia, l'appoggio e la preghiera che Papa Francesco mi ha espresso personalmente. Vorrei infine ringraziare la piccola famiglia nel monastero Amate d'Ecclesia, la cui comunione di vita in ore liete e difficili mi dà quella solidità interiore che mi sostiene. Alle parole di ringraziamento è necessario segua anche una confessione. Mi colpisce sempre di più e fortemente che giorno dopo giorno la Chiesa ponga all'inizio della celebrazione della Santa Messa, nella quale il Signore ci dona la Sua parola e se stesso, la confessione della nostra colpa e la richiesta di perdono. Preghiamo il Dio vivente pubblicamente di perdonare la nostra colpa, la nostra grande e grandissima colpa. È chiaro che la parola grandissima non si riferisce allo stesso modo a ogni giorno, a ogni singolo giorno. Ma ogni giorno mi domando se anche oggi io non debba parlare di grandissima colpa. E mi dice in modo consolante che per quanto grande possa essere oggi la mia colpa, il Signore mi perdona, se con sincerità mi lascio scrutare da Lui e sono realmente disposto al cambiamento di me stesso. In tutti i miei incontri, soprattutto durante i tanti viaggi apostolici con le vittime di abusi sessuali da parte dei sacerdoti, ho guardato negli occhi le conseguenze di una grandissima colpa e ho imparato a capire che noi stessi veniamo trascinati in questa grandissima colpa quando la trascuriamo o quando non affrontiamo con la necessaria decisione e responsabilità come troppo spesso è accaduto e accade. Come in quegli incontri ancora una volta posso solo esprimere nei confronti di tutte le vittime di abusi sessuali la mia profonda vergogna, il mio grande dolore e la mia sincera domanda di perdono. Ho avuto grandi responsabilità nella Chiesa Cattolica. Tanto più grande è il mio dolore per gli abusi e gli errori che si sono verificati durante il tempo del mio mandato nei rispettivi luoghi. Ogni singolo caso di abuso sessuale è terribile e irreparabile. Alle vittime degli abusi sessuali va la mia profonda compassione e mi ramarico per ogni singolo caso. Sempre più comprendo il ribrezzo e la paura che sperimentò Cristo sul Monte degli Olivi quando vide tutto quanto di terribile avrebbe dovuto superare interiormente. Che in quel momento i discepoli dormissero rappresenta purtroppo la situazione che anche oggi si verifica di nuovo e per la quale anch'io mi sento interpellato. E così posso solo pregare il Signore e tutti gli angeli e i santi e voi, care sorelle e fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Ben presto mi troverò di fronte al giudice ultimo della mia vita. Anche se nel guardare indietro alla mia lunga vita posso avere tanto motivo di spavento e paura, sono comunque con l'animo lieto perché confido fermamente che il Signore non è solo il giudice giusto, ma al contempo l'amico e il fratello che ha già patito egli stesso le mie insufficienze e perciò, in quanto giudice, è al contempo mio avvocato, mio paraclito. In vista dell'ora del giudizio mi diviene così chiara la grazia dell'essere cristiano. L'essere cristiano mi dona la conoscenza, di più l'amicizia con il giudice della mia vita e mi consente di attraversare con fiducia la porta oscura della morte. In proposito, mi ritorna e gli continua in mente quello che Giovanni racconta all'inizio dell'Apocalisse. Egli vede il figlio dell'uomo in tutta la sua grandezza e cade ai suoi piedi come morto. Ma egli, posando su di lui la destra, gli dice, non temere, sono io. Cari amici, con questi sentimenti vi benedico a tutti. Benedetto XVI